Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino in attesa della nomina, insieme con tutti il parco, non sarà più un vincolo. Banca Montepruno, sabato scorso convention alla Certosa di San Lorenzo a Padula per presentare le possibili novità della riforma. Pubblicazione sulla rivista di Food Design per Maria Cristina De Luca. Teggiano, sesta edizione del torneo di briscola organizzato dall'associazione Evergreen. Sport, calcio e i risultati delle gare del fine settimana per le squadre valdianesi. Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con le Uno News. In primo piano il processo a carico del maresciallo Cunzolo in merito alla morte di Massimo Casalnuovo avvenuta nell'agosto del 2011. La Corte d'Assise di Potenza ha di fatti quest'oggi ribaltato la sentenza di primo grado e hanno condannato il maresciallo Cunzolo, responsabile a loro avviso del reato di omicidio preterintenzionale, a 4 anni e 6 mesi e interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Ora il processo si sposta in Cassazioni dove i legali del maresciallo hanno già preannunciato il ricorso. Cambiamo argomento il sindaco di Sassano, Tommaso Pellegrino, in attesa che la Commissione Ambiente della Camera ufficializzi la sua nomina presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Ai nostri microfoni ci parla dell'iter e dello stato attuale della nomina, ma soprattutto è convinto che insieme a tutti gli amministratori, alle associazioni e ai cittadini c'è la possibilità di trasformare il Parco. Chiaramente aspettiamo la formalizzazione da parte del Ministro dopo il passaggio opportuno delle Camere della Commissione Ambiente della Camera del Senato. Io rispetto alla firma di De Luca dopo l'indicazione del Ministro Galletti non avevo dubbi per il rapporto di Sime e di fiducia che c'è sempre stato con il Presidente De Luca e chiaramente questo mi responsabilizza ulteriormente e mi carica non soltanto la condivisione che ho visto e l'affetto che ho visto in questi giorni nei miei confronti mi fa particolarmente piacere, ma soprattutto mi carica di responsabilità e che certamente è responsabilità che non mi spaventa, ma anzi sono convinto che con l'aiuto e con la collaborazione dei sindaci, degli amministratori, delle associazioni, della gente, del territorio riusciremo a cambiare verso il Parco trasformandolo da vingolo in una grande opportunità. Io penso che il Parco, che tra l'altro è il nostro parco più grande d'Europa, possa essere veramente una grande occasione di sviluppo. Chiaramente è l'unico ente che mette insieme 80 comuni, quindi un territorio così vasto, cioè Alburni, Cilento e Vallo di Diano. Penso che veramente c'è una grande sfida. Sono convinto che riusciremo ad incidere e soprattutto abbiamo il dovere di dare delle opportunità ai nostri giovani, quelle opportunità per fare in modo che possano investire e restare nella propria terra, nel proprio territorio e possano avere delle occasioni, delle occasioni di lavoro, delle occasioni per poter investire la loro vita e la loro famiglia qui nei territori del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Gli Alburni. Andiamo avanti nella cronaca. I carabinieri della stazione di Padula hanno identificato il responsabile dell'esplosione del colpo di arma da fuoco che domenica scorsa ha gravemente ferito un cacciatore durante una battuta di caccia al cinghiale. Il giovane risponderà di lesioni personali colposi. Deferita invece una persona per esercizio abusivo di attività venatoria che non avrebbe dovuto partecipare alla battuta. Sempre a Padula è stato deferito un uomo che invece nel corso del mercato settimanale cercava di spendere una banconota falsa da 50 euro. Infine a Sala Consilina è stata deferita una donna che a seguito di un sinistro statale di lieve entità con un altro automezzo in pieno centro cittadino si è data la fuga, poi è stata individuata e le è stata tolta la patente. Cambiamo argomento ma restiamo sulla cronaca. Sassano, finti operatori Enel cercano di introdursi abusivamente in casa e l'allarme lanciato da Don Otello ieri mattina ha chiesto massima attenzione ai cittadini e di difidare chi vuole entrare nell'abitazione spacciandosi come un operatore dell'Enel. Sembra infatti che negli ultimi giorni alcune persone fingendosi proprio operatori dell'Enel promuovendo agevolazioni entrano nelle abitazioni delle persone per poi effettuare delle vere e proprie furti nelle stesse. Al momento si sono registrati casi a Sassano ma tutto il Vallo di Diano potrebbe essere interessato da tali eventi criminosi. Pertanto è richiesta la massima attenzione. Cambiamo argomento. Sabato scorso presso la Certosa di San Lorenzo a Padula e si è svolta la Convention 2015 della Banca Montepruno, un'occasione per presentare ai soci, dipendenti ma anche amici i numeri dell'Istituto di Credito ma anche per parlare della riforma del credito cooperativo ormai all'orizzonte. Una giornata di studio e di confronto che ha visto la partecipazione anche della direttore della Federazione Campana delle BCC, il dottor Franco Vildacci. Gli ottimi risultati ottenuti nel 2015, risultati sotto gli occhi di tutti che ci vedono crescere costantemente negli anni con una raccolta che ha superato i 400 milioni, con un incremento solo quest'anno di depositi oltre 45 milioni, di impieghi, quindi prestiti che hanno superato i 260 milioni e con un risultato assolutamente straordinario che è l'uternetto di esercizio che supera i 5 milioni di euro. Risultati che oggi abbiamo sottoposti all'approvazione, se così possiamo dire, dei nostri dipendenti e dei nostri collaboratori e poi abbiamo parlato in questa giornata di studio, perché ci piace definire questo, sia di riforma sia di banca, di cambiamento e questo è importante. La riforma certamente ci sarà e come sappiamo tutti Renzi l'ha dichiarato, non so come sarà, io mi auguro che non sia così come è stata dichiarata dallo stesso, io mi auguro che dire la possibilità almeno alle banche virtuose di svolgere un ruolo importantissimo, un ruolo che fino ad oggi è stato svolto sul territorio e che ovviamente non potrebbe essere assolutamente tolto questa capacità e questa autonomia ai nostri istituti. Ma si è parlato molto anche di cambiamento, oggi per fare banca bisogna cambiare, non si può essere la banca tradizionale di una volta, possiamo assolutamente tenere conto delle nuove tecnologie, lo abbiamo fatto attraverso un intervento importantissimo della nostra collega Stefania Morena che ci ha fatto capire come sta cambiando il mondo, ma come sta cambiando insieme al mondo anche la banca. Io sono convinto che il 2016 sarà ancora un successo, perché la squadra c'è, il gruppo pure, per cui tutti uniti, tutti insieme, facendo rete, facendo cooperando, come è giusto che sia, sicuramente i risultati non mancheranno ad arrivare. E purtroppo no, perché ce le cambiano in continuazione. C'è un progetto presentato dal gruppo cooperativo a livello nazionale al governo, ma le dichiarazioni degli ultimi giorni da parte del Presidente del Consiglio e del Ministro Padoan ci fanno pensare ad altro e questo genera preoccupazione, perché poi se non conosci bene come ti puoi muovere, quali sono le linee guida, il grado di autonomia che avremo, ovviamente questo ci fa temere per l'operatività per i nostri clienti. Entro fine anno uscirà il decreto del governo, poi c'è tutta una normativa secondaria cosiddetta e di settore che dovrà essere emanata dalla Banca d'Italia, che prevederà dei tempi, noi pensiamo almeno un triennio, affinché poi tutto vada a regime. Però dobbiamo analizzarla e capire come ci possiamo muovere. La nostra speranza è che essendo noi una banca solida e che va bene, e che noi possiamo continuare ad avere ampi margini di autonomia, come ci è stato promesso almeno in questi mesi, e quindi poter continuare ad essere banca del territorio, sperando che per i nostri clienti non cambi nulla. Però dipende appunto da questa riforma che attendiamo. Sicuramente abbiamo un grado di patrimonializzazione nel complessivo superiore a quello della media delle altre banche. La nostra sicurezza è l'appartenenza ai territori e la fiducia, come ha detto il direttore albanese, che ci danno i nostri clienti, che ci guardano in faccia, perché noi facciamo una banca diversa. Secondo il progetto che la nostra federazione italiana ha proposto al governo, le nostre banche rimarranno banche del territorio, ma nel vero senso della parola, se me lo consente, senza dissorsioni, perché punta sulla centralità del socio e quindi l'espressione delle nostre comunità. Non vorrei neanche più parlare di territorio delle nostre comunità. Sicuramente nel rispetto delle autonomie delle banche, purché siano banche virtuose che hanno capacità di produrre reddito, di fare il loro mestiere e di farlo per bene. Cambiamo argomento nella splendida location della Valle delle Orchidee. È stato inaugurato sabato scorso un elegantissimo e suggestivo agriturismo, perfettamente intonato con il luogo e la natura. La struttura è stata realizzata dall'imprenditrice agricola Antonella Abruzzese. Inaugurato sabato scorso nella splendida cornice della Valle delle Orchidee di Sassano, l'agriturismo l'orchidea di Antonella Abruzzese. Alla presenza del vice sindaco di Sassano Antonio D'Amato, dell'amministrazione comunale e del presidente dell'associazione imprenditori Vallo di Diano Valentino Di Brizzi, il taglio del nastro per presentare l'azienda agrituristica è interamente realizzata utilizzando materiali biologici per una struttura altamente confortevole. Dopo la benedizione da parte di Don Otello Russo e il breve discorso da parte del vice sindaco D'Amato che ha voluto elogiare l'iniziativa del titolare dell'agriturismo Antonella Abruzzese per aver realizzato una struttura accogliente e rispettosa dell'ambiente in un'area come la Valle delle Orchidee che si sta cercando di promuovere e valorizzare, tutti i presenti hanno potuto ammirare l'attenzione dei dettagli con cui è stata realizzata e le grandi vetrate per poter prevalentemente soffrire della luce naturale del sole e del giorno, oltre che poter ammirare il paesaggio della valle. Anche il presidente del Live, Valentino Di Brizzi, ha voluto elogiare l'imprenditrice soprattutto per il coraggio di investire in un momento in cui l'incertezza è tanta e su un progetto decisamente all'avanguardia come la realizzazione di un agriturismo biologico che permette di vivere a contatto con la natura e di poter degustare prodotti di alta qualità e prodotti direttamente dalla titolare dell'agriturismo. Io sono un'imprenditrice agricola grazie ai fondi europei che con questi bandi che sono usciti ci hanno dato la possibilità di fare queste attività. Questa è un'attività agricola appunto. Abbiamo voluto innanzitutto valorizzare il posto anche per valorizzare i prodotti del nostro territorio e della mia azienda perché io comunque produco anche nella mia azienda alcuni prodotti. Questa struttura presenta un 40 posti a sedere quindi ci sono anche due camere da letto quindi è un bel posto. Siamo nella bella valle delle orchidee facilmente raggiungibile. Ad animare la festa poi un ricco buffet e la torta realizzati dalla pasticceria peccati di gole dintorni. Andiamo avanti. Il Vallo di Diano mette in mostra ancora una volta i suoi talenti. Questa volta si tratta della food designer Maria Cristina De Luca che ha potuto pubblicare il suo importante studio sulla rivista di food design, design for food and nutrition. Ospite della nostra redazione Maria Cristina ci ha parlato del suo studio e dei suoi lavori che mettono al centro il cibo. Io praticamente diciamo che sono un architetto pentito. Ho iniziato ad occuparmi da un paio ed anni di food design. Il food design si occupa di progettazione di cibo a 360 gradi. Si occupa della parte più progettuale per cui brand identity per le aziende piuttosto che packaging oppure progettazione di interni per luoghi di uso e consumo di cibo. La particolarità diciamo del mio lavoro è lo sviluppo di nuovi prodotti in campo alimentare quindi sia per aziende che per gli chef. E ho avuto questo importantissimo riconoscimento perché c'è questa pubblicazione di questo mio progetto sulla pubblicazione del compasso d'oro. Il compasso d'oro ha origini abbastanza diciamo antiche relativamente insomma è stato fondato nel 1954 da Gioponti e aveva la funzione di promuovere la qualità dei prodotti made in Italy del design. Quest'anno per la prima volta è stato fatto questo compasso d'oro internazionale quindi aperto ai progetti di tutto il mondo e in occasione dell'Expo 2015 appunto era basato esclusivamente su progetti in campo alimentare quindi di food design. E' stata già una grandissima soddisfazione passare le prime selezioni e vedere il mio progetto pubblicato è stato un riconoscimento molto importante. Ho fatto questo progetto in collaborazione con mio padre che ha un casificio qui nel Vallo di Diano, il casificio Fratelli Starace e il progetto è capresella. Capresella è praticamente una caprese pronta da mangiare quindi è una mozzarella con all'interno il pomodoro, l'aroma del basilico, l'olio e il sale insomma tutto quello che prevede la caprese vera e propria e con la garanzia dei prodotti di qualità. La caprese è un piatto simbolo della nostra nazione non solo perché prevede i colori del tricolore ma anche perché diciamo che è proprio un piatto tipico del sud con i prodotti migliori del nostro sud Italia. Assolutamente sì, anche all'Expo si ha parlato tantissimo di dieta mediterranea quindi avere in un unico prodotto tutto quello di cui si ha bisogno insomma è un valore aggiunto. Assolutamente, assolutamente uno degli elementi principali dell'Italia è l'alimentazione l'alimentazione che insomma la nostra nazione ne ha fatto il suo vanto giustamente e oltretutto poi fondendosi con il design riesce anche ad acquisire un valore più importante. E proseguiamo, parliamo adesso di scuola, genitori e alunni ieri hanno avuto la possibilità di visitare il liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula che nel classico Open Day, una giornata importante per genitori e ragazzi che entro febbraio devono compiere la loro scelta sull'istituto da frequentare dopo la terza media. Entro febbraio i ragazzi che attualmente frequentano il terzo anno delle scuole medie dovranno scegliere il loro indirizzo di studio. Prima e fondamentale scelta che darà un'importante impronta al loro futuro. Ieri sera presso il liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula si è svolto l'Open Day finalizzato a far conoscere ai ragazzi l'offerta formativa e la struttura. Alla presenza di docenti e dirigente scolastico Liliana Fersola, oltre che degli alunni che già frequentano l'istituto scolastico, è stato possibile per genitori e ragazzi ottenere un'ampia descrizione delle materie di studio inserite nel percorso e delle attività extradidattiche che vengono periodicamente realizzate e poste in essere dai docenti e dal dirigente scolastico per garantire la miglior formazione possibile. All'Open Day di ieri sera a Padula erano presenti anche ex allievi del liceo scientifico Carlo Pisacane, come Sergio Annunziata, attuale presidente della conferenza dei sindaci dell'Asla di Salerno e Raffaele Accetta, presidente della comunità montana Valloridiano. Anche il vescovo della diocesi di Tegiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, ha voluto partecipare all'iniziativa promossa dal liceo scientifico Carlo Pisacane per salutare docenti e alunni che già frequentano l'istituto e i ragazzi che sono ora chiamati all'importante decisione per il loro futuro. Le persone non si valutano necessariamente per gli obiettivi che raggiungono, perché ciascuno di noi è un working in progress, cioè gli obiettivi di oggi non sono quelli di ieri e non sono certamente quelli di domani, ma quello che conta veramente per gli adolescenti è di fornire loro un ambiente in cui possono sviluppare delle capacità critiche e creative attraverso l'assunzione di contenuti. Allora si chiamano oggi alumni quelli che hanno frequentato. Io mi pregio in questo liceo di incontrare sempre più persone che in effetto hanno espresso qualcosa non soltanto per sé dal punto di vista della soddisfazione personale, ma anche per il territorio perché ci danno sempre qualcosa. Io ho fatto solo il primo anno, quel primo scientifico, e poi sono andato, allora inizia la mia carriera di calciatori a Varese, ma è stato un anno e un ricordo veramente bello, eccezionale e al di là dell'accoglienza, ma soprattutto era una famiglia perché non eravamo due sezioni allora e quindi ricordo ancora con piacere gli amici di quell'anno che sono stato qui a Padula e sono stati poi le basi della formazione perché poi a Varese ho continuato il liceo scientifico. Naturalmente non facendo dei paragoni, ma quella freddezza che avevamo al nord rispetto al calore qui del sud e anche alla formazione, alle basi che mi sono state dati. C'è un particolare legame con il liceo e con Padula perché oltre ad essere stato un alunno del liceo scientifico, ho avuto i miei due figli che sono stati alunni del liceo scientifico e poi, insomma, come è noto, continuo a frequentare Padula per altri motivi come presidente della comunità montana e quindi c'è un legame veramente abbastanza, diciamo, notevole, ma soprattutto perché adesso a dirigere questo liceo c'è la professoressa Liliana Fersola che, come si diceva, è stata anche alunna, infatti io ricordo che all'epoca quando io frequentavo il liceo era qualche anno prima di me. Oggi veramente sono in condizioni completamente diverse, ma oltretutto è l'offerta formativa che è diversa, abbiamo visto tante iniziative, tante attività e quindi grazie anche a questa dirigente sicuramente questo liceo, e di questo credo tutti noi ne possiamo essere orgogliosi come territorio, farà parlare di sé nel territorio. Restiamo nella scuola questa mattina, ultimo appuntamento del 2015 per il progetto di educazione alla legalità, sicurezza e giustizia sociale promosso dalla Banca Montepruno in collaborazione con l'osservatorio per la cultura alla legalità e alla sicurezza. Stamane lezione all'Istituto Camera di Sala Considina alla presenza di Sante Massimo Lamonaca, giudice ordinario esperto del Tribunale di Sorveglianza di Salerno e in rappresentanza della Banca Montepruno del dottor Cono Federico, responsabile dell'area di lezione. Oggi, come sempre, è uno dei tanti incontri per quanto concerne il progetto sull'educazione alla legalità e ci tengo a precisare che è stato promosso dalla BCC di Montepruno, quindi sono delle tappe distribuite un po' su tutte le scuole medie e gli istituti comprensivi territoriali. Oggi si parla di disagio giovanile ed è il dottor Angelo Coscio, un bravissimo scrittore che ha vinto tantissimi premi a livello nazionale, però c'è una sorpresa in quanto c'è una testimonianza di un ragazzo che ha avuto delle problematiche a livello generale e che porterà, diciamo, un po' la sua esperienza di come è uscito fuori da questo tunnel e di cosa sta facendo per recuperare il tutto. Sappiamo che i ragazzi, gli adolescenti a una certa età, io dico sempre, se non sono protagonisti dell'argomento, tendono sempre un po' a distrarsi. Quindi attraverso il gioco, lui attraverso il gioco li porta alla responsabilità e alla riflessione, proprio quello che stava facendo il dottore Coscio. Dopo vari temi molto importanti toccati dal gruppo del dottore Lamonaca, oggi ci siamo rivolti ai ragazzi più piccoli delle scuole medie per farli riflettere un po' su tutti i problemi e le paure a cui possono andare incontro, sempre con persone che hanno attraversato momenti bui della propria vita, per invitare i ragazzi a riflettere sui rischi che corrono. Per cui bisogna puntare anche su di loro, concentrare anche i nostri sforzi economici e non solo, sulla loro crescita, sul loro sviluppo e tematiche come queste sono importanti e devono essere affrontate per non lasciarli in balia di quello che trovano. E ancora successi e applausi per l'edizione 2015 del Concerto della Pace che si è svolto presso il Teatro Amabile a Sant'Artenio, sul palcoscenico, a salire la Sunshine Band diretta dal maestro Morelli. Il Natale è sempre molto sentito, le immagini che vedete sono state registrate a Teggiano, bella e antica città del Vallo di Diano, sede Vescovile, dove anche quest'anno le luminarie fanno da cornice al clima delle feste natalizie. Ma Natale è anche momento di bilanci, solidarietà e soprattutto di riflessione in un tempo dove guerre e cattiveria sembrano prendere il sopravvento. E a Sant'Arsenio, nel bellissimo teatro comunale, si è rinnovato l'appuntamento del Concerto per la Pace, nona edizione, voluto dal Circolo della Banca Montepruno e dal suo presidente il dottor Aldo Recinito, che con il dottor Antonio Mastrandrea e il direttore generale della Banca Montepruno, il dottor Michele Albanese, hanno salutato e esortato tutti alla cordialità e alla solidarietà in questo tempo difficile, ma che per l'istituto da loro diretto è stato un anno straordinario di successi. Ad aglietare la serata è stata chiamata la Sunshine Band, diretta dal maestro Carlo Morelli, direttore dei cameristi del Teatro San Carlo di Napoli, con un programma di musica classica ai canti spirituali, alle più moderne sonorità pop e soul. Sono veramente commosso, pieno di felicità e nello stesso tempo mi compiaccio con questi ragazzi che ci hanno offerto questo spettacolo questa sera con il maestro Morelli, perché hanno saputo coinvolgere tutti quanti della Fratea sono entrati nella nostra anima, ho detto prima e lo ripeto adesso, e noi abbiamo allargato questa nostra anima a questo incontro spirituale con un aspetto della cultura che noi perseguiamo, cioè un aspetto musicale che ci ha coinvolti, ci ha commosso e diciamo che nello stesso tempo ci ha fatto apprezzare l'importanza di certe canzoni sia a livello internazionale sia a livello locale. È una formazione che è nata nel 2006, la Sunshine Band, abbiamo fatto bellissime cose, tanti programmi televisivi con la Gallucci, abbiamo fatto tanti tour all'estero con Ferisiano, tanti artisti e stasera per noi essere qui è stata un'emozione enorme, abbiamo trovato un pubblico preparato, calorosissimo, affettuoso, è stata una serata dedicata alla pace, abbiamo bisogno della pace, abbiamo bisogno di serenità, ma soprattutto abbiamo bisogno di una politica che immagini e che faccia sì che i giovani possano vivere in un mondo sicuramente migliore. Seconda parte dell'edizione serale delle Uno News, ripartiamo dagli eventi, gli allievi del laboratorio teatrale Fori Arte con la supervisione degli attori della cooperativa culturale La Cantina delle Arti ed in particolare del maestro Enzo D'Arco saranno di scena con gli spettacoli preparati nell'ambito del periodo di corso. Il Natale rappresenta il momento migliore per presentare i risultati del lavoro che appassionati di teatro stanno ottenendo. Domani sera, presso la sede della cooperativa culturale La Cantina delle Arti, saranno di scena i ragazzi del laboratorio teatrale Fori Arte con tre spettacoli presentati dai tre gruppi di lavoro. Magistralmente diretti dal maestro Enzo D'Arco a partire dalle ore 20, si partirà con l'evento Spettacoli di Natale in Cantina. Sul palcoscenico di Sala 94, gli allievi più grandi del corso, Io e il Teatro, daranno inizio alla serata di teatro con lo spettacolo Nell'ombra una donna. A proseguire la serata saranno poi i piccoli allievi del corso Il gioco del teatro. I piccoli, di età compresa tra i sei e dieci anni, porteranno in scena lo spettacolo Pinocchio Una storia d'amore. A concludere l'interessante serata, che vedrai partecipanti ai corsi di arte teatrale del laboratorio Fori Arte per la prima volta esibirsi su un palcoscenico e mostrare quanto appreso nell'arco di queste settimane di corso, saranno poi gli adolescenti d'età compresa tra gli 11 e i 14 anni, iscritti al corso Il Teatro del Sé, con lo spettacolo A scuola nell'antica Grecia. La serata rappresenterà anche un'occasione per scambiarsi gli auguri per questo Natale 2015 e per il nuovo anno in arrivo del 2016, con lo spumante e il classico panettone natalizio. E ora trasferiamoci a Teggiano, dove si conferma evento attesissimo dell'inverno teggianese, il torneo di briscola organizzato dall'associazione Evergreen. Sabato scorso le premiazioni e a seguire a cena tra partecipanti, amici, soci e sponsor. Ancora una grande partecipazione per la sesta edizione del torneo di briscola a coppie e gli assi del gioco, organizzato ogni anno dall'associazione Evergreen, che vede la partecipazione di un gran numero di appassionati di tutte le età e senza distinzione di sesso. Sabato sera, presso il centro Don Bosco, nel centro storico di Teggiano, la premiazione delle coppie vincitrici del torneo e la consegna degli attestati di partecipazione di questa sesta edizione, che nel tempo continua a raccogliere sempre maggior successo, confermandosi tra le manifestazioni invernali di maggior interesse a Teggiano, anche perché valorizza uno dei passatempi di maggior interesse degli anni passati, come il gioco con le carte napoletane. Grandi premi in palio per i vincitori del torneo, ma ancora più interessante la cena offerta dagli organizzatori per le premiazioni, realizzata nell'antico chiostro di San Francesco. Quello che diciamo da tempo, soltanto facendo sinergia tra le istituzioni, le associazioni e la gente si riesce a produrre qualcosa di veramente positivo per la nostra comunità. Questa è stata una bellissima manifestazione che ha portato a Teggiano tanta gente, anche dal comprensorio. È un torneo che è giunto oramai alla sua stessa edizione, riuscitissimo. A pieno titolo fa parte di questo parterre di manifestazioni che in questo periodo si stanno tenendo nel nostro centro storico. Tante donne, è un momento importante per la nostra cittadina, per la nostra comunità, da quel senso di aggregazione al nostro paese. Sicuramente, pensiamo alla prossima edizione, ha circa 80 coppie, quindi venute da tutto il Valoridiano, non so, molti di Teggiano, ma tante altre anche dal Valoridiano. Grandi premi in palio per i vincitori del torneo, ma ancora più interessante, la cena offerta dagli organizzatori dopo le premiazioni, realizzata nell'antico chiostro di San Francesco, con un menù ricco caratterizzato da piatti tipici della tradizione locale. Dall'antipasto ai dolci, il tutto condito con tanta sana allegria, frutto della grande voglia di stare insieme, risultata ancora una volta la vera vincitrice dell'iniziativa del gruppo associativo Evergreen. L'evento, che continua a raccogliere consensi da più parti, è realizzabile grazie alla storica partecipazione e adesione degli sponsor dell'iniziativa, che ogni anno contribuiscono con il loro sostegno economico e non solo a rendere il torneo di briscola agli assi del gioco ogni volta più interessante e divertente. Anche quest'anno è andata benissimo, mi fa tanto piacere, è uno sport bellissimo, fa tenere la mente allenata e speriamo nei prossimi anni sarà ancora meglio. Una bella iniziativa, soprattutto è l'ennesima edizione che sponsorizziamo, che sponsorizzo con la mia azienda. Una bella cosa, un torneo che ormai è diventato non un appuntamento solamente tegianese, ma dell'intero comprensorio. Tanti di tutti i paesi del Valoridiano e non solo stanno facendo questo torneo e si stanno divertendo. È un'edizione molto importante che capita nel periodo di Natale e che ci piace seguire, quindi una organizzazione anche nei minimi particolari molto molto bella. A me piace sempre quando una persona prende delle nuove iniziative, che le nuove iniziative viene, porta gente, porta conoscenze, porta lavoro, porta tante cose. Speriamo che queste cose continuino sempre nel meglio. Ed ora la pagina sportiva FC Sorrento e Polisportiva Santa Maria sono i campioni d'inverno per l'eccellenza e la promozione campana girone B e girone D. In coda successo importante per il Valdiano contro il Sant'Antonio Abate mentre cade in trasferta il Sassano. Si chiude il girone di andata nei campionati di eccellenza e promozione campana. Nel girone B del massimo campionato regionale FC Sorrento conquista la Palma di campione d'inverno grazie al successo esterno sul campo della Scafatese firmato dalla doppietta di Gargiulo e il gol di Scarpa. Di misura invece il Cittadino Cera contro il San Vito Positano e restando così attaccato alla prima della classe. Cade invece il Montesarcio sul campo della Palmese e non va oltre il Parile Bonitana sul campo della Mariglianese. In zona retrocessione vittoria importante per il Sant'Omaso contro il Massa Lubrense e per il Valdiano che al Vertucci di Teggiano batte di misura il Sant'Antonio Abate. A decidere l'incontro il gol dell'ultimo arrivato in casa Blaugrana Giuseppe Salvitelli che a 5 minuti dalla fine disegna con il suo destro una traiettoria che si spegne all'incrocio dei pali. Un successo che vale molto per la compagine di Morea Sarli che nel primo tempo poteva andare sotto ma la traversa ha negato la gioia del gol all'ex faiano Antonio Cibele. Nel campionato di promozione campione d'inverno è la polisportiva Santa Maria che non va oltre lo 0-0 sul campo del Poseidon. Capolista che vede assottigliare il vantaggio sulla diretta inseguitrice, il Picciola, che grazie alla vittoria firmata da Guadagno ha ragione del Sassano del presidente Ricciardone. Le altre inseguitrici vanno in tutto K.O. Il Real Pontecagnano perde in caso del Costa d'Amalfi, il Canalunga in caso del Real Aversana, mentre solo pari per la Temeraria contro la Giffonese. Infine in coda successi decisivi e fondamentali per Vigor Castellabate contro il Calpazio e Olimpique Salerno contro il Buccino Volcei. Ed ora nel prossimo servizio analizziamo le gare delle valdianesi impegnate nei campionati di prima e seconda categoria. Nel campionato di prima categoria il girone G resta in vetta la classifica e la Santa Cecilia che non ha certo vita facile contro la Pollese. Alla fine però la compagine di mister Balzano si impone per 2 a 1. Vittoria invece per il Montesano che davanti al proprio pubblico vince 3 a 1 contro la nuova San Vito Sapri e sugli scudi Angrisani autore di una doppietta. Non va oltre il pari il Real Palomonte, la squadra di mister Dimieri è bloccata sul campo della Propalinuro. Vittoria rotonda per il campagna e la Gregoriana rispettivamente contro Rofrano e Real con Tursi Terme. La squadra di mister Menza rifila un poker alla fanalino di coda del girone con Troiano autore di una doppietta. Tre gol invece di Giuseppe Maiorino regalano il 3 a 1 con cui la Pro Colliano ha ragione dell'Alfanese. Infine sconfitta esterna per il Certosa di Padula in case del Cicerale la squadra di mister Giasi non riesce a strappare un punto nell'ostica trasferta. Nel campionato di seconda categoria girone L, ultima giornata amara per le Valdianesi. L'AS di Sassano esce sconfitta dalla gara casalinga contro il Novivelia. Un 3 a 2 per gli ospiti che li proietta in vetta alla classifica. Perde la vetta del girone anche il Pro Atena che perda sul campo del Gioi. Così come chiude con una sconfitta esterna il suo cammino nel 2015, il Sant'Arsenio che rimedia un 3 a 1 in casa del Pattano. Ora tutti in vacanza, si riparte il 10 gennaio. E con lo sport si chiude l'edizione serale delle Uno News. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.